Bene, questa sera vorrei parlare un po' dei nostri obiettivi effettivi come società e come staff tecnico che è chiaramente la formazione, è inerente la formazione di tutte le nostre ragazze. In particolar modo voglio sottolineare che ancora questo lunedì 5 ragazze nostre sono state a Milano alle selezioni regionali, ma ancora di più volevo sottolineare la prossima convocazione al Crapi Italia vista dai selezionatori nazionali Tomasi Aurora e Baselari Sonia. Ci tengo in modo particolare a sottolineare il fatto che Tomasi era stata vista già due anni fa al Regional Day e poi non è più stata considerata e evidentemente il lavoro fatto in palestra l'ha strutturata a tal punto che i selezionatori la vogliono rivedere e vogliono valutare il fatto di poterla eventualmente considerare per quanto riguarda la nazionale Andere 18. Insieme a lei e anche a Baselari che non ha avuto l'opportunità di fare il Regional Day l'anno scorso ha anche lei questa opportunità di essere vista dai selezionatori nazionali. Questo sta a dimostrare che comunque il lavoro che noi facciamo non è mai improntato ad un risultato immediato del campionato, ma piuttosto alla loro formazione e questo ci dà un grande merito, grande visione e visibilità alle ragazze e alla nostra società. Per quanto riguarda il weekend, sabato abbiamo soltanto la partita della Serie C, giochiamo ancora nella Bergamasca, preciso a Curno. Per quanto riguarda la Serie C, voglio capire se riusciamo pian piano a rientrare un po' nel nostro modo di giocare. Poi per quanto riguarda i campionati giovanili, abbiamo tutte le partite tranne la 18 l'Under 12 CSI, quindi siamo impegnati tutti i fronti con due partite al mattino e altre nel pomeriggio.